20 anni di Banca degli Occhi all'Aquila, centro di riferimento regionale Abruzza e Molise di eccellenza a livello nazionale, celebrati con un convegno di portata nazionale con i massimi esperti. Ad organizzarlo il dottor Germano Genitti, primario del reparto di oculistica del San Salvatore e consigliere della società italiana Banca degli Occhi. Dopo la pandemia e le problematiche scaturite bisogna ripartire. L'aspetto più importante è quello della donazione, bisogna fare di più. In questi anni di attività tanto il lavoro è portato avanti, ma le donazioni sono sempre più difficili di ottenere, soprattutto nel centro-sud e Italia e in una regione come l'Abruzzo che ha 1,3 milioni di abitanti. Dobbiamo dire che quando abbiamo istituito la Banca degli Occhi non c'erano donazioni né all'Aquila né in Abruzzo. Quindi in 20 anni di attività siamo riusciti a processare più di 3.000 tessuti, siamo riusciti a effettuare svariate centinaia di interventi chirurgici di trapianti di cornea, quindi dei risultati si sono raggiunti. Naturalmente dico che un po' complice il sisma, il Covid, le restrizioni del sistema sanitario nazionale in cui si investe poco, abbiamo avuto negli ultimi anni delle riduzioni delle donazioni e quindi stiamo mettendo a punto una serie di progetti che favoriscano sia la sensibilizzazione alla donazione sia dei percorsi organizzativi che possano riportare ai fasti dei primi anni di attività quando abbiamo avuto all'Aquila, all'ospedale San Salvatore, il più alto indice europeo di durazioni. Nel convegno un focus importante anche sulle nuove tecniche usate. San Salvatore è un'eccellenza. Prima, 20 anni fa, ma anche fino a 10 anni fa, il trapianto era solo la cara plastica perforante, quindi un trapianto a tutto spessore. Ora i trapianti sono lamellari, ovvero si sostituisce una porzione della cornea malata, quindi la porzione anteriore e la porzione posteriore, detto in maniera semplice.